giungiamo ad una delle note più importanti per un videomaker che vuole entrare nel mondo degli effetti visivi e che vuole utilizzare gli effetti visivi è quello dell'organizzazione del lavoro è un piccolo capitoletto che ho voluto aggiungere per poter gestire per far capire quale la gestione migliore quando si affrontano progetti con effetti visivi cominciamo dal primo punto che il brief il brief con il cliente quindi che ci commissione determinato lavoro dobbiamo capire esattamente quello che il cliente vuole cosa vuole come lo vuole è importantissimo riuscire a capire e a farci dare quante più informazioni possibili perché gli effetti visivi sono un ambito molto tecnico ma anche altamente artistico quindi è bene interpretare alla meglio tutto quello che ci viene dato tutti gli input che ci vengono dati dal nostro cliente ed un buon brief fa più di metà del lavoro poi veniamo allo spoglio lo spoglio normalmente si fa quando si ha una sceneggiatura ed è bene organizzare tutte quelle che sono le varie inquadrature che comporranno la nostra sequenza è bene riuscire a ordinare uno storyboard a creare uno storyboard per avere molta più chiarezza quando andremo a lavorare sapere esattamente che elementi abbiamo bisogno di creare di costruire di girare di digitalizzare piuttosto e quindi dare più importanza delle cose piuttosto che ad altre subito dopo lo spoglio viene la fase di r&d ossia research and development in italiano ricerca e sviluppo dover capire come affrontare tutte le sfide perché questa è una delle cose particolari del mondo degli effetti visivi che non esiste una logica unica per poter lavorare assolutamente esistono soltanto delle tecniche riconosciute ma ogni progetto è diverso da un altro non esistono due uguali quindi ad ognuno porterà una determinata sfida è un determinato approccio a quel lavoro e quindi la ricerca la parte di ricerca e sviluppo è fondamentale per stabilire quali software utilizzare che tecniche utilizzare anche per velocizzare la fase anche per organizzare la fase produttiva con i dove gireremo i contenuti per poi andare in posto produzione per alleggerci il compito e quindi essere più veloci possibili e ottenere il miglior risultato possibile quando andremo a lavorare la ricerca e sviluppo serve soprattutto ad organizzare bene il lavoro perché se sappiamo cosa dobbiamo fare dopo ci verrà tutto molto più semplice infatti organizziamo benissimo tutto quello che c'è da girare in fase di ripresa e tutto quello di cui abbiamo bisogno se ad esempio dobbiamo ricreare un elemento che esiste in scena dobbiamo crearlo in 3d prendiamo le misure di quell'elemento appuntiamole su un foglio di carta e conserviamole perché così sarà più semplice dopo ricostruirlo con le giuste proporzioni in tre dimensioni come un altro consiglio che posso dare tutto questo lo fa il supervisore sul set normalmente quando si fa un film è quello di prendere tutti i dati della camera quando si registra qualcosa con una macchina da presa una fotocamera è importante prendere l'altezza della camera da terra l'inclinazione la lunghezza focale il tipo di ottica il tipo di diaframma così da poter replicare e ripetere tutti questi elementi all'interno della nostra scena digitale a questo punto dopo aver fatto la parte produttiva quindi dopo aver girato tutti i contenuti andiamo a suddividere la lavorazione di posto produzione in tre parti quindi cominciamo con il 3d e la realizzazione di tutti gli elementi che serviranno poi successivamente poi passiamo all'animazione animiamo tutti gli elementi 3d costruiti prima poi creiamo il layout di tutto quindi mettiamo tutti gli elementi insieme quelli modellati quelli animati e non e poi arriviamo finalmente al compositing dove andiamo a mettere tutto insieme e realizzare la nostra immagine definitiva che poi verrà consegnata